Un quadro in vetro frantumato sulla testa del padre, schiaffi e pugni sul volto della madre, fino a farla sanguinare e colpi alla schiena della sorella, intervenuta per difenderli utilizzando un bastone. Questo l'evento che a Melissa ha fatto sì che venissero allertati i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato un ragazzo di 28 anni. Dopo l'intervento dei sanitari, le vittime hanno denunciato formalmente il ragazzo, descrivendo un triste quadro fatto di violenza fisica e psicologica che andava avanti da almeno un paio di mesi. Soltanto adesso però i genitori esaussi, dopo lunghe settimane di insulti, minacce di morte, mani alla gola e aggressioni di ogni genere, hanno trovato la forza di denunciare il figlio. Il ragazzo è stato trasportato presso la casa circondariale di Crotone, su disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.